Buongiorno a tutti, sono Antonio Davino e sono un pediatra di famiglia, presidente nazionale della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri. Oggi parliamo di resistenza agli antibiotici, perché la resistenza agli antibiotici è considerata proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle tre più importanti minacce per la salute pubblica del ventunesimo secolo, insieme alla crisi climatica e alla tendenza a rifiutare i vaccini. In particolar modo tratteremo le infezioni respiratorie, distinguendo subito tra infezioni delle alte via aeree e infezioni delle basse via aeree. Alte sono quelle che riguardano il distretto nasale, il faringe, l'orecchio medio, la laringe. Basse invece sono le infezioni che interessano i bronchi e i polmoni. Va subito precisato che la maggior parte delle infezioni respiratorie delle alte via aeree sono di natura virale, siamo a circa l'ottanta per cento, per cui la componente batterica in questa tipologia di infezioni è davvero bassa. Però le infezioni respiratorie comportano perdita di ore di lavoro dei genitori, assenteismo scolastico per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti affetti, per cui queste infezioni hanno delle ricadute anche proprio sulla vita, sulla socialità dei bambini e delle loro famiglie. Queste infezioni nella stragrande maggioranza dei casi si autolimitano e quindi richiederebbero semplicemente una vigile attesa. Diverso è il caso in cui si ha la superinfezione di queste infezioni con dei batteri e questo avviene per esempio nelle forme croniche oppure in casi per fortuna abbastanza rari di bambini con immunodeficienze, bambini che hanno quindi un rischio maggiore di esposizione di forme gravi con un decorso prolungato. E siccome all'orizzonte non ci sono dei principi attivi, dei rimedi, dei farmaci che diano un'innovazione da un punto di vista terapeutico, per quanto riguarda gli antibiotici è opportuno guardarci indietro, guardare un po' a quello che si è fatto negli anni passati e quindi riconsiderare eventualmente rivalutare delle molecole storiche che sono state utilizzate e che hanno dato dei buoni risultati. Noi come pediatri di famiglia abbiamo una rete di pediatri sperimentatori in tutta Italia, pediatri sperimentatori che sono in grado di fare dei progetti di ricerca clinica che possono valutare sia quelle molecole nuove ma possono sicuramente anche prendere in esame le molecole più datate, quelle che comunque hanno dimostrato negli anni di dare una risposta adeguata nei casi in cui questi farmaci dovevano essere utilizzati. E quando pensiamo a molecole datate, per esempio, può essere opportuno riconsiderare delle molecole chemioterapici di sintesi, ad esempio, che si possono somministrare per via rettale e ciò consente di superare le difficoltà di somministrazione per la ridotta palatabilità, per casi in cui ci sia la nausea o il vomito o ci sia una scarsa collaborazione del bambino. Questo ci consentirà di esplicare al meglio quelle che sono le prerogative della pediatria di famiglia, sostanzialmente la prevenzione, l'educazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. E proprio quando parlo di educazione sanitaria intendo dire come veicolo proprio di cultura e come strumento prezioso che attraverso una diffusione capillare e autorevole alle famiglie che si affidano al proprio pediatra di famiglia può diventare strumento di correzione per degli atteggiamenti associati a conseguenze di proporzioni planetarie, come proprio l'abuso di antibiotici. Io ringrazio tutti per l'attenzione e un saluto cordiale.